signore e signori mi piace tanto aprire così quando devo soprattutto presentare grandi artisti io sono felicissima di ritrovarla personalmente lei è tante donne in una splendida donna sola è cantante perché ha una voce strepitosa è attrice e regista e sa trattare la musica come la sua collega alla quale lei si ispira che è barbara streisand ma lei qui all'ora solare è donatella pandivino e non mi dite che io l'abbia fatta un po lunga gino castaldo dice la più grande cantante che noi abbiamo ed è vero tutto vero con questo folle amore per barbara streisand si un folle amore che mi ha folgorata fin da piccola perché l'ho vista per la prima volta che ero poco più di una bambina e lo racconto nel mio concerto recital perché i miei genitori fortunatamente mi hanno portato fin da piccola a teatro a vedere anche i film musicali molto belli e vidi quindi alla fine degli anni sessanta questo film fanny girl e rimasi subito folgorata da questa artista che mi colpì non capivo perché era una bambina e io ricordo come fosse oggi l'ultimo brano che lei canta per chiudere il film racconta la storia di fanny brice interpretando my man in quel modo io ho pensato e lo ricordo oggi come se fosse successo ieri io ho un giorno vorrò essere così e fare queste cose che fa questa signora signori donatella pandimiglio tra le altre qualità a quella di mantenere sempre le promesse fatte e allora a quest'ora quando chiedere l'arte chiedere di cantare ad un cantante è veramente qualcosa di difficile e grave ma lei è bravissima e mantiene la promossa la promessa promossa pieni voti donatella pandimiglio mi sono un po grazie 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 E Vabra cantava, la sua voce ripeteva, He's my man, l'uomo mio è solo lui. Sale come fumo nella mente ogni dettaglio di me, di quel che a volte ho temuto, di quello che ho desiderato, e Vabra che intanto cantava sembrava parlasse di me. Ma parlava di lei, Donatella Pantiliglio, bravissima, 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 bravissima. Timeless Barbara, il suo spettacolo, omaggio per gli 80 anni della straordinaria Barbara Streisand, Teatro Ghione di Roma, il 3 e il 4 con due grandi serate di solidarietà, perché Donatella Pantiliglio è anche questo, e sabato 5 novembre... Il grande evento, unico in tutti i sensi. Allora, People, il brano che abbiamo appena sentito lo ha scritto un amico dell'Ora Solare, un grandissimo musicista e cantante, Franco Simone, al quale mandiamo un bacio. Un abbraccio enorme. Questa fotografia dice che qui ci sono due signore che sanno cantare nella stessa maniera. Questo lo posso dire io? Sei un angelo. No, sono un angelo, dico assolutamente la verità. Allora, la Streisand, 150 milioni di dischi venduti, Grammy Awards come se piovesse, 19 film, due Oscar appunto per Funny Girl come miglior attrice e per Star is Born, ve lo ricordate, è nata una stella. Hai appena detto vedi Funny Girl e ti innamori. Di lei ed è il suo modo di cantare, ma tutti possono provare a ricantare Donatella, tu sei una professionista. Come fai ad avere quel timbro? Allora, questa unione, posso dire solo una parola su questa foto che ho praticamente voluto montare io così? Certo. Perché la mia è a colori ed è tratta dalla precedente versione di questo spettacolo. Lei è proprio nella scena di cui ti parlavo del film ed è in bianco e nero, perché rappresenta la sospensione nel tempo. Esatto. Lei c'è sempre, c'è stata sempre e ci sarà sempre. Quanto sei bella. Ottant'anni gagliardamente vissuti, voglio dire, e splendidamente portati. La Streisand, questa passione che per te diventa, attenzione, il tuo amore per la musica, il tuo amore per il canto, arriviamo anche alla storia di Donatella, però diventa un modo non certo per imitarla, ma per interpretarla. Sta qua il tuo scatto, Donatella. Assolutamente sì. Questa è la cosa che ti rende speciale. Imitarla sarebbe una perdita in partenza, perché insomma, a parte che ognuno di noi è un pianeta unico, io lo dico ai miei allievi, perché insegno da oltre 30 anni, oltre ad essere sul palco. Dove insegni? E ho insegnato a partire dal laboratorio di Gigi Broietti, perché è stato proprio lui a intuire, e oggi lo ricordiamo. Più che mai. Vogliamo ricordarlo. Più che mai. Perché ogni giorno ci manca come l'aria. Solo lui poteva decidere di morire il giorno della sua nascita. Assolutamente. Da grande artista è stato puntuale e preciso. Fino in fondo. E quindi, ripeto sempre, è l'unicità di ciascuno di noi. E il fatto di interpretare lei è perché io sento, ho sempre sentito, in questa grande artista, questa vibrazione che viene proprio da questo eclettismo della nostra professione. Quindi l'essere contemporaneamente, sì, una grande voce, ma dentro c'è l'anima dell'attrice, c'è l'anima proprio del teatro, della creatività. E se volete, la rotondità, la rotondità dell'arte. Questo è, questa sera, 3 novembre, poi domani 4 e poi sabato 5 novembre, al teatro Ghione, ci sarà uno spettacolo da non perdere. Le prime due sere per solidarietà, la terza sera sabato, per tutti coloro, e sono tantissimi, che accorreranno. Ci vediamo un attimo, ci fermiamo, ma promettiamo, non la facciamo uscire dallo studio. Arriviamo qui con Donatella Pandimiglio. Donatella Pandimiglio, applausi, 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 perché questa grande artista, cantante, regista, attrice, è la voce di Barbara Streisand. Nel 2007-2008 tu porti in scena, aspettando Barbara, in occasione di quel mancato spettacolo della Streisand in Italia. Dobbiamo dire grazie a Pino Quartullo, anche lui allievo di Proietti, per questa idea? Eh sì, perché lui si trovava nel mio studio per preparare un brano che doveva fare in uno spettacolo e quindi visse questa mia situazione molto ansiogena, perché volevo assolutamente vedere lei che arrivava a Roma per la prima volta, ho detto questa volta non me la posso perdere. Non dico qui quanto costavano i biglietti, ma molto. Certo. E tramite mio marito, che per me farebbe qualsiasi cosa, è riuscito ad avere questi due biglietti la sera prima che uscissero in vendita, perché è noto che i suoi biglietti, i suoi spettacoli, quando vengono promossi in vendita, in poche ore vanno sold out. E purtroppo invece in un paio di giorni hanno tolto questo concerto a Roma, perché non stava vendendo come in Francia e in Inghilterra. E quindi mi prese un panico pazzesco. E Pino era presente quando vissi questo momento, e lui mi disse, ma fallo tu un concerto dedicato a lei. Ma grande, grande idea. Sei un pazzo. Assolutamente, ma la follia ci vuole. Sei un folle. Dico, lei verrà adesso in vacanza, perché mentre fa i concerti in Europa, lei ama l'Italia tra Capri e l'Isola d'Elba. E io nel bel mezzo a Roma faccio un tributo a lei. Ho detto, non si può fare. No, ha detto, lo voglio al mio festival. Me l'ha proprio commissionato. E bravo Pino Cortuno. Mi ha dato il titolo, aspettando Barbara. Aspettando Barbara. Bravo Pino, bravo, bravo, bravo. E questa volta invece lo riprendo io, l'ho ripreso io per i suoi 80 anni. Per i suoi 80 anni. In tutto questo, nel concerto di Parigi, tu riesci finalmente ad andarla a sentire, vedere dal vivo. A respirare dal vivo. A respirare. Che effetto fa? Avrei voluto che il tempo si fermasse. Avrei voluto poterla incontrare da vicino, ma a questo non sono riuscita ad arrivare, perché è abbastanza difficile. Ma è stata un'esperienza che ha solo confermato tutto quello che ho sempre sentito, pensato di lei. Allora, aspettando Barbara, è questo spettacolo che riempirà a partire da questa sera il Teatro Ghione di Roma. 3, 4 e 5 di novembre. Il 3 e il 4, le due, possiamo definirle anteprime? Sì, sì, sono anteprime. Sarà uno sostegno dell'associazione Mango, che si occupa di bambini del Paraguay, che intende realizzare una scuola di musica a Villa del Sol per i bambini abbandonati, e poi per l'associazione che segue le famiglie colpite da una malattia rarissima, l'emiplegia alternante, quindi per l'Aisea. L'associazione Aisea, sì. L'associazione Aisea. C'è anche questo nel tuo lavoro, Donatella? Sì, perché ho proprio scelto di sostenere questa associazione, la seconda, pensate a soltanto 50 famiglie in questa associazione in tutta Italia, per cui è una malattia particolarmente rara. e siccome il sistema spesso è cieco, sordo, di fronte alle cose piccole, perché anche le malattie rare diventano cose piccole, e allora io, è gioco di parole, nel mio piccolo cerco di sostenere chi ha più bisogno. Di fare qualcosa in grande. E speriamo di riuscirci. Brava Donatella, bravissima. Allora, questa signora, il 5 novembre, sarà sabato 5 novembre, sul palco del Ghione, per lo spettacolo, lo spettacolo dedicato agli 80 anni di Barbara Streisand, sarà con questo ragazzo, che non solo le ha scritto la meravigliosa canzone, ma è Franco Simone. Guardate un po' che messaggio che le invia. Ciao Donatella. Beh, per cominciare, voglio ringraziare la nostra comune amica Rita Cammarano, perché è lei che ci ha fatto conoscere. Giorno benedetto quello in cui ci siamo incontrati, perché da quel giorno ho conosciuto un artista come te, veramente rara, di una razza che si sta quasi estinguendo. Ho conosciuto tanti bravi colleghi, tanti bravi cantanti, ho conosciuto anche tanti bravi attori, ma molto raramente ho incrociato una bestia da palcoscenico come te, che sapesse unire le due cose in maniera impeccabile. È stato facilissimo comporre una canzone per te, mi sono messo a quel piano lì, ho scritto canzone per Donatella, e immaginando l'uso che ne avresti fatto, è nata molto semplicemente quella canzone Barbara cantava. Ma la storia spero proprio che non finisca qui, perché sei una donna, un artista che stimola. Aveva ragione Gino Castaldo quando ha detto che sei probabilmente la più brava cantante italiana, e hai accanto una conduttrice di quelle veramente rare, perché anche lei come te unisce la professionalità alla grande umanità. Ciao Donatella, ciao Paola. Franco, Francino Simone, grazie, grazie, grazie. Io sono visibilmente commossa. Lui è un grande artista che non sciupa mai le parole. Solo per me le ha sciupate, no, non è vero. Franco, grazie, ma ha detto... Tra l'altro lo spettacolo si chiama Timeless Barbara. Io aspettando Barbara e così ero partita... Il precedente. Timeless però, Franco, l'hai detto, vuol dire senza tempo, e quindi vuol dire che occasioni per cantare, per lavorare insieme, per fare cose insieme, voi ne avete e ne avrete. E infatti questa serata del 5 è una serata strepitosa, perché lui sarà in platea e a un certo punto salirà sul palco. Non voglio dire tutto, ma presenteremo sicuramente un suo brano che abbiamo appena inciso in duetto per la prima volta dal vivo. E voglio approfittare di aggiungere a quello che lui ha detto di straordinario, io ho il cuore veramente pieno di queste parole, che questo brano che l'ha scritto e Barbara cantava, racconta in pochissime parole, con una capacità poetica e di sintesi, due punti di incontro molto importanti per me con questa grande artista. Fanny Girl la prima volta, Yentl la seconda. Io ero adulta, ero già in carriera, che lei dedicò a suo padre, ed è stato un film per me, un altro film pazzesco. E lui con questi racconti, dentro al brano, racconta e Barbara cantava My Man Is My Man è Fanny Girl e Papa Can You Hear Me? Ho ancora bisogno di te è Yentl. Quindi in poche parole lui ha riuscito a raccontare il mio rapporto con lei, la mia vita, veramente in pochissime parole. Senti, super professionista splendida. Allora, famiglia tutta amante della musica, suo papà suonava per diletto, ma molto bene il pianoforte, il nonno, la tromba, lo zio e il violino, la voce, la presa dalla mamma, perché mi pare naturale, quando si vuole. Ci ha portato anche queste foto stupende, Donatella. Il pianoforte, il pianoforte è un dono che tu hai ricevuto proprio dal tuo papà. Pensa, era l'epifania dei miei quattro anni e mezzo. E arrivò a casa questo splendido pianoforte antico dell'Ottocento, tutto in radica di noce, che mia mamma l'ho persa un anno e mezzo fa ed è stato nel salone di mia mamma fino a un mese fa perché adesso quel pianoforte è entrato in casa di mio figlio perché lui è cresciuto strimpellando quel pianoforte e ha detto mamma io amerei tanto avere quello che è stato il tuo pianoforte. Quindi l'amore e l'arte si ereditano, si mescolano insieme. Quanti anni ha tuo figlio? Filippo. Filippo ha 47 anni. Va bene, questo perché tu sei senza tempo perché hai fermato il tempo. L'ho avuto molto giovane. E quindi è un po' sempre questo signore. La pandemia è scesa con un'astronave qui. È arrivata con un mezzo un po' singolare ma noi abbiamo fatto finta di niente. Allora, aveva sempre quattro anni e mezzo lei quando a teatro, perché questi genitori stupendi che adoravano la musica ti portano alla bohème di Puccini. Una cosa proprio da bambina di quattro anni. Una cosuccia. E tu, questo topino con i ricci che alza un indice verso il cielo in questa fotografia, rimani estasiata dalla bellezza. Insomma, è talento Donatella, però il talento se è cresciuto, se viene lavorato dentro alla musica, dentro alla bellezza, gli evita prima. Io ci sono cresciuta, ho sempre respirato tutto questo. Certo, il talento ce l'hai dentro che vive, pulsa, perché è un dono divino. Però avere una famiglia che ti cresce così. E io cantavo, dopo l'opera, mi chiudevo nel salone dei miei genitori, mi sdraiavo sul divano con attenzione che nessuno sentisse. perché volevo stare da sola e cantavo Sono andati, fingevo di dormire, a quattro anni e mezzo. Lo capisco. E da qui in poi non può che migliorare, per cosa vi devo dire. Cioè, se a quattro anni e mezzo è così, a dodici anni canta in pubblico, a quattordici anni arriva in finale al concorso Memmo caro tenuto, arriva in finale, le propongono, ti propongono, via, si parte, concerto, e il mio padre disse di no. Ma perché? Disse di no perché ero troppo piccola, perché quello per lui era il mondo, lui mi adorava, adorava la mia voce, ma pensava che fosse il mondo della perdizione, il mondo dello spettacolo, no? E poi soprattutto ero troppo piccola. Eri troppo piccola. che io facessi il liceo, che mi laureassi, insomma, tutto bene, tutto a posto. E quindi, però a un certo punto poi ho preso in mano la mia vita e era impossibile non farlo. E nel 1988 al Teatro Sistina, quando il Teatro Sistina se ne cade per i sette re di Roma di quel genio di Gigi Proietti, che fa questa ragazzina che nel frattempo è cresciuta, fa fare il provino e canta. e adesso se non me la canta a cappella almeno un pezzettino di quelle note che fanno dire a Gigi Proietti girato verso Piero Garinei a pie, meglio di così. Signori, Donatella Pandimiglio in questo fuori programma come si presentò davanti a Piero Garinei e a Gigi Proietti? Andiamo? Lo faccio con questo o con quello di microfono? Quello che vuoi, come lo fa? Con che tipo di microfono? Con questo forse è meglio, va? Con questo? Con questo. Mentre teniamo l'immenso Gigi Proietti con noi assolutamente a cappella e canterò il pezzettino di Rosetta. Sì? Roma non fa la stupida stasera Damme una mano a famme di De No Spegni tutte le stelle Più brillarelle che c'hai Nasconde me la luna stasera stasera Tu sei una meraviglia! Tu sei una meraviglia! Brava, brava, brava! Brava! Si passa da Hollywood Broadway alla canzone romana che ho fatto col maestro Piovani per tanti anni. Oh, col maestro Piovani per tanti anni. Grazie mille a Gigi Proietti anche per questo, anche per Donatella Pandimiglio. oltretutto il grazie che gli dobbiamo Vincenzo Cerami la incontra pum e la sua carriera decolla la incontra anche Ennio Morricone qui ogni volta mi dovrei alzare in piedi per applaudire ma Ennio Morricone che ti dice che cosa? Un giorno a casa sua mi chiamò perché voleva che fossi una delle protagoniste di Nuovo Cinema Paradiso lui mi aveva visto molte volte a teatro e seduto al suo pianoforte iniziò a suonare e poi si girò e mi disse signora Pandimiglio sappiasse quanti anni sono che desidero lavorare con lei finalmente si presenta questa occasione io stavo per morire ma comunque si è sentito in questi casi di solito è tu du uno che cade e sviene così però tutti questi grandissimi hanno semplicemente detto una verità tu sei una grande artista Donatella grazie Paola lo sei anche perché sei così conosci il tuo valore ma non lo sbatti in faccia a nessuno questo valore lo fai ascoltare e amare questo fa di te una splendida dicono i francesi je suis comme je suis io sono questa signori je suis comme je suis io ringrazio ringrazio due persone in una la nostra Laura Bernardini con Maria a bordo per averci portato questa ospite e in uno stacco non so è difficile parlare se gli applaudi sai che c'è ma applaudiamo la pandemia ma perché devo parlare ma perché ma perché grazie grazie grazie